A nuove ulteriori chiusure il governo dovrà rispondere con aiuti concreti. Queste le parole del sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto che in attesa del nuovo DPCM ai microfoni di TV City illustra come la città stia vivendo la seconda ondata del virus. Ad oggi sono 429 i cittadini positivi. L'incertezza economica di questi tempi, spiega, rischia di compromettere il totale rispetto delle regole tra i cittadini. Crescono i contagi in tutta la Campania. Come si presenta Ercolano con l'emergenza Covid-19? Stiamo vivendo anche ad Ercolano una situazione molto delicata. Stiamo cercando di chiedere ai cittadini grande rigore e grande responsabilità. Vedo che ancora troppi giovani prendono alla leggera questa che è una crisi, questa che è un'emergenza. Come se in tanti non si rendessero conto che se non rispettiamo le regole, se non stiamo attenti, se non indossiamo la mascherina, se non adottiamo quelle che sono le misure all'uovo previste, rischiamo un nuovo lockdown. E un nuovo lockdown il mezzogiorno non può permetterselo, perché alla crisi sanitaria corrisponderebbe a una crisi economica forse ancora più grave. Noi vogliamo stare attenti, ma vogliamo evitare che chiudano le scuole, vogliamo evitare che chiudano i centri di cultura, vogliamo evitare che chiuda il nostro teatro, vogliamo evitare che chiuda il parco archeologico. Noi vogliamo continuare, anche durante la pandemia, a investire in turismo, in cultura, perché sono certo che a breve, quando finirà questo momento così terribile, Ercolano tornerà a splendere, tornerà a splendere con i suoi milioni di turisti e con i suoi centinaia di bed and breakfast. Ieri il Premier Conte ha parlato al Governo, ha cominciato ad annunciare quelle che saranno le nuove misure di sicurezza del nuovo DPCM previsto tra la giornata di oggi e domani. Probabilmente molte regioni verranno chiuse, quindi saranno in lockdown, tra cui anche la Campania. Che cosa ne pensa? Io non mi permetto di giudicare i dati scientifici che sono in possesso del Presidente Conte, però devo dire da politico, da cittadino, da sindaco di questa comunità che in questo momento noi dobbiamo cercare di fare i salti mortali per garantire il diritto alla salute, ma anche il diritto alla sussistenza economica di tante famiglie. Questa è una città dove l'80% delle famiglie vivono di precariato, di lavoro saltuario e quindi vanno rispettati, ma soprattutto vanno accompagnati. Lì dove ci saranno le chiusure ci devono essere i ristori. C'è consapevolezza di questo virus, della pericolosità, di questo contagio tra i cittadini? Certo, c'è consapevolezza, ma in questo momento la crisi economica rischia di condizionare questa consapevolezza. Il sindaco ha parlato nello specifico anche dei controlli sul rispetto delle norme anticontaggio nella città di Ercolano. Abbiamo un comando dei vigili urbani che naturalmente è ridotto a poche unità, facciamo i salti mortali, qualche multa siamo riusciti ad elevarla, ma quello che mi fa rabbia è che non è una questione di controlli, perché se un ragazzino di 17 anni quando vede il vigilo urbano alza la mascherina e dopo quando il vigilo urbano gira l'angolo abbassa la mascherina significa che non ha capito niente. E contro quel ragazzino ci vuole solo educazione, sensibilità e tanta tanta attenzione anche da parte dei genitori, altrimenti questa sfida non la vinciamo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!